Questo è il primo evento del nostro nuovo mandato per il quale abbiamo scelto come parole chiave complessità, inclusione e diversità. Nel precedente mandato, e con l'occasione ringraziamo i soci che ci hanno dato fiducia per un secondo mandato, abbiamo voluto esplorare la necessità per i counselor di essere professionisti, quindi sul sapere essere. In questo nuovo mandato vogliamo invece andare sul saper leggere la realtà che sta cambiando. Parlando oggi di complessità, abbiamo voluto introdurre un discorso che va essenzialmente sul fatto che la società sta cambiando in una maniera talmente rapida e i counselor hanno in qualche modo, sono coinvolti sia dal punto di vista personale che dal punto di vista come operatori, sono coinvolti su due fronti e quindi crediamo che abbiano il dovere professionale di essere pronti e di essere preparati su questi temi in modo da rendere il loro contributo più efficace. Grazie. 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 Grazie.